Incidente stradale in via del commercio, poi degenerato, è successo nella notte tra sabato e domenica. L'incidente sarebbe degenerato in una lite tra diverse persone presenti, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avventori di locali pubblici presenti in zona, probabilmente alterati dall'abuso di sostanze alcoliche. Alla vista delle pattuglie delle forze di polizia, una buona parte si sarebbe allontanata. Gli agenti intervenuti hanno comunque proceduto all'identificazione di una decina di individui e a far accompagnare al pronto soccorso tre di loro, due dei quali contusi superficialmente ed uno in stato di incoscienza per l'abuso di sostanze alcoliche. Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e consentire al questore Paolo Sartori la valutazione in merito all'eventuale adozione di provvedimenti amministrativi e misure di prevenzione. Grazie a tutti.